Brusca frenata di piazza affari sulla scia delle nuove tensioni politiche all'interno del governo di larghe intese. In una giornata segnata dalla chiusura di Londra per festività, a Milano il Fuzzi Mib lascia sul campo il 2,1%. Il titolo che più risente dei toni sempre più nervosi tra Silvio Berlusconi e il Partito Democratico è proprio Mediaset, che cede oltre 6 punti percentuali. Male anche i titoli bancari, come UbiBanca, Banco Popolare e Mediobanca, sulla scia dell'aumento dello spread. Il differenziale di rendimento BTP Bund è tornato a sfiorare i 250 punti base, con rendimento del decennale quasi al 4,4% e si registra uno scarto di meno di 10 punti con lo spread spagnolo. In Europa cala anche Madrid, meno 0,42%, mentre Francoforte guadagna lo 0,22%.